In Italia si fa ancora un po' di difficoltà, l'immaginario della donna indivisa sembra ancora una novità, però credo che col tempo questo processo diventerà sempre più stabile. Io attualmente comando l'ufficio circondariale marittimo di Civitanova Marche, sono la prima donna al comando in questo ufficio. Le posso dire che inizialmente c'è stata una perplessità, soprattutto da parte del ceto peschereccio, che è sempre stata abituata ad approcciarsi con un uomo, però sono fiduciosa, credo che il tempo sicuramente sistemerà anche questa differenza, che poi non la vedo come una differenza perché credo che il ruolo della donna sia complementare al ruolo dell'uomo, non c'è assolutamente una rivalità, bensì una complementarità. Il ruolo di comandante poi è il ruolo soprattutto di gestione degli uomini. Un bravo comandante è chi sa gestire il proprio personale, chi riesce a far uscire il meglio dal proprio personale, e credo che non serva essere uomo e donna per fare una cosa del genere, bisogna avere delle capacità più che particolarità di genere.